Allora, siamo a quarantina, quindi direi che possiamo occupare lo spazio al primo piano vicino alla porta, ma non attaccato all'uscita, perché se non la gente inizia a piarsi come adesso, facciamo il corridoio dall'apposso, dal varetto, fino all'uscita all'interiore delle torri al primo piano. Tutti quanti sono tranquillamente larghi, al segnale della signorina, tutti in modo, nel cento di 5 secondi passino, ognuno nella posizione che preferisce, va bianco, 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 basta una cosa a giocare, guarda, insomma, non sapete, non c'è più, non c'è più, non c'è più. E stiamo fermi, cerchiamo fermi, cerchiamo di incontrare mentalmente a 150, 180, diciamo 3 minuti, ovviamente sarebbe il caso che tutti noi prendessero il numero di ripenimenti di una persona, così quando magari il primo ha finito in contare, si muove, il secondo è in contattato, al giro di un minuto siamo tutti in quello normale. Alla fine si scompare, non si applaudere, niente, scompariare con sé, niente, ma parliamo di parlare globalmente, la gente è la mia vita. Buon divertimento, ciao! Buon divertimento, 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 bu Grazie. 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 Grazie.